Ben trovati, ben trovate a tutti di nuovo sul canale di Simonetta, Medium Simonetta. Carissimi, carissime, adesso andiamo ad imparare un rituale veramente che vi sembrerà semplice, in realtà è semplice perché non è che è complesso, ma che con pochi elementi e chiaramente la vostra fede, la vostra determinazione, dà dei risultati straordinari, veramente straordinari, dovete semplicemente provarlo. Questo lavoro, questo rituale, è un rituale come sempre di magia, vediamo se, ecco, metto a posto un po' meglio, di magia afro-brasiliana, dove andiamo a lavorare con Pombagira Sigana da Estrada. Pombagira Sigana, cioè vorrebbe dire la zingara della strada, un'entità potentissima anche essa e questo lavoro si fa quando vogliamo farci ricontattare da una persona ovviamente disinteressata, fredda o che ha scarsa voglia di interagire con noi o che ha perso smalto con noi. Quando vogliamo spezzare blocchi, nel senso questa persona ci ha bloccato, quindi caso direi storico nei social media, che a un certo punto qualcuno comincia a bloccarci e non ci vuole parlare, quando vogliamo far ritornare una persona che da qualche tempo si comincia ad assentare. Quindi questo è un lavoro di ritorno, di ritorno, di spezzare il fermo che lega questa persona a noi. E Pombagira Sigana, la zingara della strada è molto potente, è molto potente. Se voi lavorate con amore, con rispetto, lei vi farà vedere in pochissimi giorni, in pochissimo tempo, a volte sono ore, ma comunque è un lavoro molto rapido, vi farà ritornare la persona o farà che lui, lei, dipende, questo è ininfluente, vi sblocchi, che lui vi chiami, lei vi chiami, che lui torni da voi, è molto molto versatile come lavoro, quindi è un lavoro di ritorno, di sblocco. Quello che ci serve sono veramente pochi elementi. Serve una sigaretta, se hai il filtro giallo va bene, se hai il filtro bianco lo stesso, sigaretta normale, sigaretta se volete proprio essere ancora più precisi, usate le sigarette quelle un po' lunghe, quelle più lunghe, oppure usate quelle magari più fini, lunghe, lo stesso, sono molto gradite alla Pombagira, comunque se non l'avete usate una sigaretta. Poi, dico questo, per quelli che non fumano, si compra un pacchetto apposta per l'occasione, chiaramente, perché giustamente serve il cosiddetto sigarro, sigarro vuol dire sigaretta. Una candela rossa, come offerta a Pombagira sigana da strada, la Pombagira che lavora nelle strade, che lavora all'aperto. Infatti, questo lavoro, cari amici, si fa fuori di casa, non si fa in casa, perché non avrebbe effetto, non richiamerebbe l'asce giusto di Pombagira sigana. Perciò, dovete farlo fuori di casa. Io vi consiglio di farlo in una strada, lungo una strada, lungo un marciapiede, isolato, ovviamente, trovatevi una strada abbastanza tranquilla, isolata, tanto non incorrerete in nessun problema. Quindi, una strada che vi pare a voi, l'importante è che sia una strada, vi mettete lì sul marciapiede e lavorate un attimo con la Pombagira sigana. Se proprio non avete la possibilità di lavorare in una strada, perché vivete in metropoli, in grandi città, allora, fatelo fuori di casa, fuori di casa vostra, nel primo angoletto, però, deve essere fuori di casa, perché Pombagira sigana da strada, ovviamente, come dice anche il nome, trabaia, lavora, fuori, all'aperto, lei vive fuori, e quindi la sua energia, il suo ascello troviamo fuori della nostra abitazione. Benissimo, come vedete, inquadrati, gli elementi semplici che servono. Una penna blu, nera, rossa, non ha alcuna importanza. Una penna per scrivere sulla sigaretta, accendino oppure fiammiferi, a vostra scelta, e una candela rossa a cera piena, e mi raccomando, non quelle rivestite di rosso e dentro bianche. Per favore, usate sempre, perlomeno, candele a cera piena, come offerta, a Pombagira, come ringraziamento. E una sigaretta, una bella sigaretta. Allora, come si inizia? Mettiamo che io voglio fare che Mario Rossi, oh, sempre lui, ma alla fine mi viene questo nome, poi lo cambieremo con un altro. Oppure, Maria Rossi, eh, non ha alcuna importanza il sesso in magia, come avrete capito, mi chiami, mi sblocchi, mi cerchi, sia appassionato di me, si rinteressi a me, la smetta con questa indifferenza e questa freddezza, corra da me e tutte le varie situazioni che potete avere. Benissimo, prendete la sigaretta, con calma, eh, con calma, testate un attimo che scrive la penna, ovviamente che... E dal filtro, cioè dalla parte in alto, scusate, non dal filtro, il filtro è questo, dalla parte in alto della sigaretta, non quindi dalla parte in basso, voi, ci vedete? Sì, che ci vedete? Scrivete con un pochino di pazienza il nome e io scrivo Mario Rossi, ci metto un po' perché questa penna scrive un pochino male, purtroppo, però testate prima una penna che scrive bene, o volendo anche un pennarellino, eh, può andar bene, e scrivete il nome della persona, vediamo se mi scrive meglio, ma... ecco, si scrive Mario, con calma, eh, andate con grande calma, Mario Rossi, che può essere anche Maria Rossi, ecco, poi se avete la data di nascita, benissimo, girate la sigaretta e scrivete anche la data di nascita, 8, 8, 8, marzo, 8, 3, 1900, sta, fate attenzione a non rompere il filtro, mi raccomando, 1900, to, mettiamo una data, 1889, va, una data, eh, comunque voi sapete, se non avete la data, mettete unicamente il nome e il cognome, quindi vedete, ora ve l'avvicino, che sulla sigaretta la andiamo a battezzare, come si dice in magia, con i dati della persona nome e cognome, possibilmente data di nascita, poi se non c'è, mentalizzate molto bene questa persona, e scrivete nome e cognome, siete nella, nel marciapiede, nella strada, chiamate ovviamente l'assistenza di pombagira, sigana da strada, perciò voi andate a mettere questa candela, su marciapiedre, in un posto ovviamente, dove non c'è un albero, non c'è erba secca, su marciapiede, o nella strada stessa, in un angolino, che non dà fastidio, l'accendete, io faccio il gesto per farvi vedere, l'accendete, chiamate pombagira sigana da strada, l'arroie pombagira sigana da strada, ti sto chiamando, vieni ad aiutarmi, con questo lavoro, a parole vostre, però la chiamate con grande rispetto, prendete la sigaretta, la accendete, anche se non siete fumatori, anzi, facciamo un piccolo appunto, se non siete fumatori, aspirate il fumo, e lo buttate fuori, quindi non sarà un problema enorme, fondamentalmente, semplicemente, noi offriamo, questa sigaretta, che è la persona, è la persona che va a bruciare, per voi, la pombagira, lo va a far bruciare, o la va a far bruciare, quindi questa sigaretta diventa la persona, la persona chiaramente, quindi andiamo a prendere la sigaretta, e la accendiamo, ora vi faccio vedere così, poi io sono fumatrice, non ne faccio mistero, e quindi tirerò le mie boccate, le boccate che vanno tirate, sono tre, quindi che voi siate fumatori, o non fumatori, dovete dare in alto, in alto, molto semplice, una volta accesa, tre boccate in alto, poi ovviamente appoggiate in piedi, così, la sigaretta, la sigaretta, e la lasciate lì, insieme alla candela accesa, che è l'offerta a pombagira, quindi andiamo ad accendere la sigaretta, diamo una boccata in alto, un'altra, la terza, e diamo un'altra boccata, per pombagira, siganada e strada, poniamo la sigaretta, sul marciapiede, sulla strada, davanti alla candela rossa, abbiamo già chiamato pombagira, gli facciamo la nostra richiesta, pombagira, siganada e strada, vai da nome e cognome della persona, riportalo da me, fa che mi sblocchi, fa che mi chiami, fa che mi desideri, fa che mi cerchi, fate tutte le richieste che volete, a pombagira, vi raccogliete, un attimo, ovviamente, per ringraziare pombagira, lasciate tutto così, com'è, senza problemi, vi girate, e andate via, se fate questo lavoro, con amore, con rispetto per pombagira, vedrete quanto è rapido, perché è veramente rapido, se lo fate bene, o se non ci sono, problemi, grossi, veramente enormi, negatività, per modo di dire, o cose davvero enormi, che non vi vuole più, se una persona del resto, non vi vuole più, o non gli piacete neanche un grammo, non c'è rituale che tenga, ma se gli piacete ancora un po', se vi vuole ancora, se gli interessate ancora a una persona, i rituali hanno effetto, questo lo dico sempre, ultima cosa, quando si fa questo lavoro, quando si può fare, sempre, non ci sono lune, fatelo in calante, in crescente, in piena, in luna nera, quando volete, orari, quando volete, non ci sono vincoli, da questo punto di vista, come ovviamente, non ci sono giorni, particolari, potete farlo, proprio al bisogno, all'occorrenza, l'importante, è che chiamate con fede, la pombagira, sigana, da estrada, ripeto, pombagira, sigana, da estrada, fate la vostra offerta, e lei vi esaudirà, carissimi e carissime, provate questo lavoro, perché è veramente potente, e come sempre, è un lavoro vecchio, come il mondo, un bacio da Simonetta, buon lavoro, tanta fortuna, tanto esito, e alla prossima.